Se hai mai sognato di vivere in un'oasi di tranquillità e comfort immerso nella bellezza di un ambiente residenziale esclusivo, questa è l'opportunità che cercavi. Situata in una posizione centrale e privilegiata, questa splendida villa unifamiliare si trova nel prestigioso complesso di parco Adri a Bari. Questa villa si sviluppa su due livelli, offrendo ampi spazi e un'eleganza senza pari. Il piano terra ci accoglie con luminosità e spaziosi ambienti, un salone doppio con grandi vetrate con vista sul parco privato, ideale per accogliere gli ospiti con stile. Una zona soggiorno o pranzo con cucina adiacente e un pratico bagno per gli ospiti. Al piano superiore l'intera zona notte regala comfort e privacy. Salendo troviamo la prima camera da letto con bagno privato e un bagno padronale. A destra tre ampie camere illuminate da finestre e un incantevole terrazzo di circa 40 metri quadri da cui godere di una vista mozzafiato sul ricoglioso giardino circostante. Questa residenza è pensata per offrire il massimo del comfort e dell'efficienza, dotata di impianto di riscaldamento autonomo e climatizzazione. È inoltre fornita di un moderno impianto fotovoltaico installato nel maggio 2022, garantendo un risparmio energetico significativo. Vivere a parco Adri a significa godere di un ambiente privilegiato, con ampi spazi verdi, campi sportivi, aree giochi per bambini e una splendida piscina a pochi passi da casa. E con la sicurezza offerta del servizio di guardia notturna e diurna, potrai godere di una vita serena, come se fossi in vacanza ogni giorno. Non perdere questa fantastica opportunità, contattaci subito e prenota il tuo appuntamento. Ciao, alla prossima!